Gli Osage presero il nome dai fiumi Missuri e Osage. Niukanska, figli delle acque di mezzo. Andate via, disse il grande padre bianco. Ci sono tanti, tantissimi lupi affamati. Negli anni venti del secolo scorso, tra le persone più ricche del mondo, c'era un gruppo di nativi americani, i membri dell'Osage Indian Nation in Oklahoma. Dopo che nella loro terra fu scoperto il petrolio, gli Osage si misero a viaggiare in automobili conotista, a costruire palazzi e a mandare i propri figli a studiare in Europa. Poi, uno ad uno, iniziarono ad essere uccisi in circostanze misteriose. Non solo, in quest'ultimo residuo del selvaggio West, veniva assassinato anche chiunque avesse osato indagare sugli omicidi, fino a quando il giovane Edgar Hoover del nascente FBI non mandò alcuni funzionari sotto copertura, tra loro anche uno dei pochi agenti nativo americani di esposizione, che si infiltrarono facendo alla fine luce su uno dei crimini più mostruosi e meno conosciuti all'estero della storia degli Stati Uniti. Scoprirono infatti che i responsabili erano cospiratori bianchi che si erano sposati con membri di questa comunità, ereditando legittimamente in questo modo la loro morte e i diritti petroliferi. Dal crimine e dai gangster di quei bravi ragazzi, ai vampiri del mercato azionario del lupo di Wall Street, Martin Scorsese ha sempre mostrato un fascino particolare per la corruzione, la violenza e gli affari clandestini, occupandosi spesso dei peccati del suo paese guidati dall'avidità. Dunque non sorprende che abbia deciso con Killers of the Flower Moon di adattare un libro di David Graham incentrato su quei crimini, illustrando senza compromesso un passato dimenticato, ennesimo capitolo di uno dei più grandi peccati originali dell'America, il genocidio spietato dei bianchi contro le tribunative. Con il coscieneggiatore Eric Roth crea un'epopia di orrore strisciante e resistenziale sulla nascita di una nazione, a suo modo un thriller che affronta in definitiva i temi classici del western, la brutale presa di terra, risorse e potere. Lo fa raccontando un matrimonio. Un veterano della Prima Guerra Mondiale, Ernest Burkett, interpretato da Leonardo DiCaprio, si trasferisce a Fairfax, in Oklahoma, dove è ospitato dallo zio, il potente e rispettato allevatore William King Hale, che è De Niro. Ernest non se ne rende conto, ma il piano è già in atto. Perché funzioni, King ha bisogno che il nipote, obbediente e un po' incapace, sposi Molly Kyle, una donna sage dalla ricchezza enorme che condivide con le tre sorelle, troppo intelligente per non riconoscere uno che mira direttamente i soldi, ma anche troppo fiduciosa nell'amore, per immaginare quanto possono essere sinistre le intenzioni del suo corteggiatore. Dopo il matrimonio, i suoi parenti iniziano a morire per cause sospette. Una sorella soccombe a causa di una strana malattia devastante, un'altra viene scoperta con una ferita da proiettile alla nuca, e la terza, uccisa in un'esplosione della propria casa così potente, da far saltare i vetri di tutte le finestre delle abitazioni del quartiere. Le stesse rischierà di morire proprio per mano del marito. Alla fine arrivano i federali che cominciano a indagare, Ernest è costretto a confrontarsi con i primi rigurgiti di coscienza, ma il suo ravvedimento sarà tardivo. In quasi 60 anni di carriera, Scorsese ha realizzato molti dei grandi film americani. Lui è anche Killer of the Flower Moon nel senso più ampio del termine. Il tentativo è di catturare l'animo di una nazione e l'ampiezza del peccato che si porta dietro da sempre. Sollevando la macchina da presa per mostrarci le vaste pianure del passato, realizza un western epico offrendo qualcosa di biblico, umano e profondamente disumano allo stesso tempo. Perché la sfera in cui operano zia e nipote, un miscuglio di lavoro e famiglia, denaro e violenza, gli offre una nuova affascinante frontiera visiva, drammatica e politica, per raccontare un'epidemia di violenza nascosta che inquina la falda freatica dell'umanità, ricordandoci allo stesso tempo come l'America sia stata costruita sulla violenza naziale e sull'autoassoluzione delle persone che ne sono responsabili. Ma oltre ad essere una storia sullo sfruttamento omicida dei nativi americani, è anche uno studio più intimo della psico-umana, della capacità di tenere dentro di sé repellenti contraddizioni morali e della rabia del maschio bianco per non poter godere della propria presunta superiorità. Una vicenda intrinsecamente oscura, raccontata con finezza classica, su una trama sinistra che non richiede di indovinare nulla per farsi capire. Traboccante di riverenza per una cultura che è sopravvissuta ad un trauma orribile, Scorsese trasforma Killers of the Flower Moon nel tipo di storia che è solo lui per raccontare meglio di chiunque altro. sull'avidità, la nostra attitudine disinvolta verso il mare, la corruzione e l'anima scherziata di un paese che è nato dalla convinzione che potesse appartenere a chiunque fosse abbastanza insensibile da prenderlo per sé senza dover sottostare ad alcun compromesso. Riesci a trovare i lupi in questa immagine? Riesci a trovare i lupi in questa immagine?